Quando tutto sembra andare per il verso sbagliato e ci sentiamo abbattuti, demoralizzati, sconfitti, ricordiamoci che la vita è imprevedibile e che in un istante tutto può cambiare. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! L'importante è rialzarsi sempre perché fino alla fine non è mai detta l'ultima parola. Un mio amico diceva, le gare finiscono sotto la bandiera scacchi. Qualunque cosa tu faccia nella vita, la speranza è sempre l'ultima a morire. E finché non sarà morta, non smettere mai di lottare. Grazie per la visione!